Il sindaco è una riunione per portarsi. Molto tranquillamente, come peraltro è uscito, è una riunione nella quale abbiamo iniziato a riorganizzare il lavoro che dovremo fare a partire dalle prossime settimane. Si riparte dai territori e è la prima di tante riunioni che faremo per riorganizzare il lavoro su Roma. Tutto qui. Non si è parlato di ballottaggio, perché vedo le domande, quindi ve lo dico, non si è parlato e si lavora proprio molto sul concreto e sui temi. I parlamentari però, sindaco, anche oggi, lei si è sentita appoggiata pienamente dai 5 Stelle in campagna elettorale? Ciao ragazzi. Posso chiedermi se le campagne elettorali si è sentita appoggiata? Beh, avete visto? Sono sempre stati. Avete mangiato con la testa, mi chiamo Roberto Berardi. Leva ste mani. Leva ste mani. Leva ste mani. Leva ste mani davanti. Mi chiamo Roberto Berardi. Signora, non dovete appoggiarvi alle sinistre. Tutti gli appalti del Partito Democratico che si sono steccati con la Fiat e che hanno portato tutte le opere, le opere sono tutte truccate, quelle del Partito Democratico. Ci mangiate, ci bevete e no, no, no. Poi se so, dal trattamento sanitario obbligatorio, ne parliamo. La bocca con le persone di destra. La destra è nata prima di voi e vi dovete specchiare. Gli siete appoggiati al Partito Democratico, eh? Al Partito Democratico, vi siete. Si è sentita appoggiata pienamente. Lo avete visto? Sono sempre venuti in campagna elettorale. No, no, vai che si riparte. Gli anno che verrà detto che questo è l'inizio della sua corrente, in ottica anche per... Non è assolutamente così, si deve ripartire dai territori. Basta strumentalizzazione. Se Conte facesse un endorsement per Gualtieri sarebbe un problema per lei, sarebbe una rottura.